Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 136esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui dopo una piccola pausa di una settimana a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Piccola pausa di una settimana dovuta a alcuni problemi personali, familiari, che mi hanno tenuto lontano dal blog. C'è da dire che comunque in queste ultime settimane non è che ci sono state tante notizie, tante notizie interessanti al mondo del software libero open source, quindi molte erano notizie riguardanti i rilasci di nuove versioni di software che ho evitato come la peste non ho pubblicato sul blog, per evitare di scassarvi le scatole con il solito annuncio. È uscita la nuova versione di Firefox, è uscita la nuova versione di X, che cosa cambia? Niente, però è uscito il nuovo numero. Eh beh, ho preferito non ammorbarvi. Vabbè, iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando dell'amante numero uno di Linux, ovvero Microsoft, che come sapete da un diverso tempo fa programmi, annuncia cose, dice di professare, di amare Linux, ma diciamo così è un rapporto a senso unico, perché Linux non lo cacca distrisce, un po' come le relazioni quelle che capitano a me, le relazioni sentimentali. Comunque, parliamo di Microsoft perché? Perché nello scorso mese di settembre vi avevo parlato della decisione di Microsoft di ritirare il client desktop di Microsoft Teams per Linux e di sostituirlo con una Progressive Web Apps. La scelta di rilasciare una Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux è stata dettata dall'esigenza di allineare il software con la versione per Windows, quindi consentire anche agli utenti Linux di Microsoft Teams funzionalità come che ne sono gli sfondi, reazione, visualizzazione di gallerie e quant'altro. Bene, a distanza di qualche mese da riannuncio, la Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux è ufficialmente disponibile per utilizzo sui browser compatibili, che sono Microsoft Edge e Google Chrome, quindi se siete utenti Firefox vi attaccate al tram. Come detto prima, la Progressive Web Apps offre accesso a più funzionalità, in cui si sfondi personalizzati, visualizzazione delle gallerie, relazioni, la funzione alla zona a mano nelle regioni, nonché la visualizzazione di gallerie di grandi dimensioni, la modalità insieme, insomma, offre tutto quello che offre già la versione per Windows e la offre anche per Linux. Fatemi sapere se l'avete provata, se utilizzate questo servizio, se non ve ne frega niente, lasciate un commento nell'apposito campo al di sotto dell'articolo su Marcosbox. Passiamo adesso a parlare di Unity. Sì, avete capito bene, non siamo tornati indietro nel tempo, non siamo nel 2015, quando Unity era nel pieno delle proprie forze, quando Ubuntu credeva in questa sua interfaccia desktop, che era davvero tanto comoda, aveva tante chicche davvero interessanti, che purtroppo Canonical ha deciso di abbandonare. Sapete bene, lo sviluppo di Unity è stato discontinuato, perché Ubuntu ha iniziato ad adottare Gnome Shell. C'è da dire, ha cercato di mettere anche una patch a Gnome Shell con il suo ambiente desktop, con una serie di estensioni per scimmiotare, per mimare quella che era Unity, senza riuscirci al 100%, però comunque l'ha migliorato. C'è da dire che, almeno per mio modesto parere, la versione di l'interfaccia desktop di Ubuntu, con Gnome Shell e con tutte le estensioni di Ubuntu, beh, rendono più funzionale Gnome Shell, quindi Canonical ha centrato più o meno il punto, però non è riuscita mai a emulare il caro vecchio Unity. E sapete bene, sapete bene perché ne avevano parlato nelle scorse puntate, uno sviluppatore indiano, giovanissimo, Rudra Saraswat, spero di averlo pronunciato bene, e non aver insultato nessuno con pronunce alquanto discutibili, che è l'attuale manutentore principale di Unity, nonché creatore di Ubuntu Unity, il nuovo Free Wars di Ubuntu, che avete avuto modo di provare qualche settimana fa con il rilascio dell'ultima versione di Ubuntu. Bene, questo sviluppatore ha annunciato la disponibilità di Unity 7.6 per Arch Linux. è disponibile in versione completa, quindi tutti quanti i pacchetti di Unity sono presenti all'interno del repository, quindi inchiusi Unity Control Center, Unity Settings Demon, Compiz, con tutte le facce di Ubuntu, e bla bla bla, tutti i cucuzzali completi. Su Marcosbox trovate il link alla pagina dedicata sul blog, sul sito ufficiale di Ubuntu Unity, dove vi viene spiegato come poter installare Unity 7.6 su Arch Linux. L'avete provato? Se avete provato il redivivo Unity, fatemi sapere che cosa ne pensate, se è per voi un progetto comunque da dimenticare completamente, o se anche voi pensate che aveva tante, tante, tante idee interessanti, che purtroppo col tempo sono sparite, perché nessun altro desktop environment ha deciso di includere. E passiamo adesso a parlare di Fedora Linux. Dopo un piccolo ritardo dovuto alla scoperta di una vulnerabilità critica in OpenSSL, il Fedora Project ha finalmente dato il via libera per il rilascio di Fedora Linux 37. Quali sono le novità principali di questa nuova versione di Fedora? Bene, troviamo innanzitutto due nuove edizioni di Fedora Linux 37, ovvero Fedora Core OS e Fedora Cloud. Fedora Core OS è una distribuzione orientata all'hosting di carichi di lavoro basati su container con aggiornamenti atomici e meccanismo di rollback semplice in modo da garantire sicurezza e tranquillità. Torna anche Fedora Cloud con l'aggiornamento delle immagini sulla WS Marketplace. Per quanto concerne l'edizione principale, quella con GNOME, troviamo la presenza di GNOME 43 con tutte quante le novità che abbiamo già visto nelle scorse settimane. Quindi nuove impostazioni, ultime risorse del toolkit GTK, prestazioni migliori, aspetto più moderno e quant'altro. Altra novità di Fedora Linux 37 è che a partire da questa versione è stato fatto un lavoro di revisione sui language pack per Firefox che sono stati divisi in sottopacchetti. Quindi se vogliamo installare il language pack italiano possiamo installare soltanto il language pack italiano. Quindi non dobbiamo portarci via tutti quanti il language pack. Discorso simile è stato fatto anche per i pacchetti di runtime per GetEx che sono gli strumenti che aiutano altri pacchetti a produrre testo multilingue che sono stati quindi suddivisi in un sottopacchetto separato e facoltativo. Oltre all'edizione principale con GNOME troviamo le varie spin di Fedora, quelle ufficiali, con desktop environment alternativi, oppure edizioni speciali, quelle chiamate Fedora Labs, che sono edizioni pensate per l'utilizzo che ne sono nel campo delle neuroscienze, dell'astronomia e quant'altro. Troviamo poi l'edizione per Raspberry Pi 4, che adesso il Raspberry Pi 4 è ufficialmente supportato da Fedora Linux, con presa la grafica accelerata e naturalmente il consueto aggiornamento dei linguaggi di programmazione delle librerie di sistema, quindi con Python portare la versione 3.11, Golang alla 1.19, GrimC alla 2.36 e via discorrendo. Per maggiori informazioni, per poter scaricare le ISO, il riferimento è sempre il blog dove trovate tutti i link del caso. E concludiamo questa puntata del podcast di Marcos Box parlando dei nostri cugini d'oltrealpe con una decisione che di sicuro farà a scuola e che spero vivamente possa essere presa da esempio anche dal governo italiano, anche se proprio ne dubito fortemente, visto l'andazzo. Le autorità francesi hanno dichiarato illegale l'utilizzo della versione online di Microsoft Office 365 di Google Docs nelle scuole e nel settore dell'istruzione. Perché? Perché semplicemente non rispettano il GDPR in quanto i dati non vengono ospitate all'interno del territorio dell'Unione Europea. A dirlo è stata l'Assemblea nazionale francese in risposta a un'interrogazione scritta fatta da un cittadino francese, il signor Philippe Latombe, che ha fatto un interpello scritto al ministro dell'istruzione relativo alla decisione di utilizzare, di proporre, di sponsorizzare, l'utilizzo di Office 365 gratuito per studenti e insegnanti. Tutto quindi è partito, come vi dicevo, da questo esposto, da questo interpello presentato dal signor Philippe Latombe, che esprimeva alcuni dubbi in merito sia alla sovanità nazionale per quanto riguarda la localizzazione dei dati personali che risidono di fatto su server statunitensi, quindi non risidono su cloud nazionali o su cloud, meglio ancora, presente all'interno dell'Unione Europea, e anche ha espresso dei dubbi per quanto riguarda i possibili problemi di dumping, quindi problemi di concorrenza sreale. Le autorità francesi hanno risposto all'interpello, hanno rimarcato in questa risposta la normativa vigente in Francia in materia di relativa al cloud nazionale che predilige l'utilizzo di soluzioni cloud nazionali o comunque ospitate all'interno del territorio dell'Unione Europea, hanno rimarcato anche una nota interministeriale dello scorso settembre 2021 che affermava che la suite di Microsoft Office 365 non era conforme alla dottrina francese del cloud al centro. Hanno ribadito che, in assenza di misure aggiuntive in grado di garantire un livello di protezione adeguato, gli istituti di istruzione superiore utilizzino soltanto suite collaborative offerte da fornitori di servizi esclusivamente soggetti al diritto europeo, che ospitano i dati all'interno dell'Unione Europea e non li trasferiscono negli Stati Uniti. Il ministero ha quindi deciso di bloccare qualsiasi diffusione sia di Microsoft Office 365 ma anche di Google Docs all'interno degli istituti scolastici, nel settore dell'istruzione in generale. Perché? Perché di fatto è contro la normativa francese ma è anche contraria alla GDPR che è stato adottato a livello europeo. Speriamo che questa decisione, come vi dicevo prima, venga presa anche da noi in Italia. Fra l'altro vi ricordo che una decisione simile era stata presa a luglio del 2019 dallo Stato dell'Asia in Germania, uno dei 16 stati federati che compongono la Germania, che aveva similmente dichiarato illegale l'utilizzo di Microsoft Office 365 nella versione cloud nella scuola perché i dati, appunto, i dati personali degli studenti vengono spediti sul server statunitensi. Speriamo, speriamo che l'Europa si dia una mossa, si arrivi finalmente all'adozione di un cloud europeo con dati dei cittadini europei presenti all'interno dei territori dell'Unione Europea e, come vi dicevo all'inizio, speriamo che una cosa del genere venga anche presa da esempio da parte dello Stato italiano. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 136esima puntata del podcast di Marcosbox e, come sempre, vi invito a seguirmi sui social, quindi Facebook, Twitter, fin quando ci sarà Twitter, visto che è l'andazzo che ultimamente sta prendendo la piattaforma. Mi trovate anche su YouTube, quindi dove posto le repliche delle puntate del podcast ma ogni tanto posto anche qualche videoguida. Mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate sui principiari piattaforme di podcasting quindi Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Amazon Alexa, Castbox, Anchor, vabbè, chi più ne ha più ne metta. Quindi mi trovate praticamente ovunque. Vi ricordo infine che mi trovate anche su Telegram dove è disponibile il canale ufficiale di Marcosbox che potete utilizzare anche a modi feed reader. Trovate poi la community Telegram di Marcosbox nella quale potete discutere non solo degli argomenti inerenti software libero e open source ma di qualsiasi altra cosa. Quindi c'è il cazzeggio libero come dico sempre. Trovate infine un canale dedicato alle offerte di Amazon sempre su Telegram che potete utilizzare per supportare il blog. Trovate tutti quanti i link affiliati ad Amazon quindi se acquistate da quei link una piccola parte verrà data da Amazon al sottoscritto che verrà utilizzata per finanziare, per supportare il blog e compensare le rotture e quant'altro perché sapete bene che mi capitano sempre rotture di tutto. Per esempio, l'ultima rottura che mi è capitata è che c'è un filino di una delle porte USB quella lì del case del computer che si è leggermente sfilato ed è quello il motivo per cui non mi funzionava più una delle porte frontali del case e tutta me succedono queste cose. Vabbè, comunque mi ricordo inoltre che potete supportare il blog anche acquistando una VPN da Surfshark da NordVPN e da AtlasVPN trovate tutti quanti i link del caso su Marcosbox sulle pagine del blog Lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox Ciao ciao Ah, ho un momento prima di lasciarvi mi ero dimenticato di questa notizia che non riguarda Marcosbox ma che riguarda la mia presenza sui social da qualche giorno mi sono iscritto anche su Mastodon sto iniziando a guardarmi attorno visto che Twitter sta tutti quanti lo stanno dando per spacciato e quindi sto iniziando a dare uno sguardo anche a Mastodon quell'alternativa a Twitter come viene chiamata che poi alternativa non è magari ne parleremo meglio in qualche puntata facendo qualche approfondimento mi trovate con il nick Maggi quindi Milano Ancona Genova Imola sia su Mastodon che su livello segreto che è un'altra istanza presente su Mastodon molto interessante dove troverete tante persone belle tanti tanti anche personaggi famosi tanti esuli di Google Plus insomma seguite seguite se siete se siete interessati all'utilizzo di Mastodon date uno sguardo al livello segreto e beh con questo finisce veramente questa 136esima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao